Il Giappone vuole qualcuno che addestri l'esercito ed è in cerca di esperti. Noi vi pagheremo i 400 dollari al mese. 500. Quanti altri autentici eroi ha nella sua lista? Prima compagnia in riga! Terza e quarta compagnia a formare una linea accanto a me! In posizione, pronti a sparare! In posizione, pronti a sparare! Allora che vuoi conoscere il mio nemico? Ho visto quello che fai tu ai nemici. Che cosa vuoi da me? Cosa vuoi tu per te stesso? 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 Grazie a tutti.